ciao sono il dottor max della farma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerò i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco tantum verde collutorio aziende chimiche riunite angelini francesco a craft spa sede legale ultimo aggiornamento 20 luglio 2021 cos'è tantum verde collutorio confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzione di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere tantum verde collutorio durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci equivalenti farmaci esteri cos'è tantum verde collutorio tantum verde collutorio e un farmaco a base del principio attivo benzidamina cloridrato appartenente alla categoria degli analgesici fans e nello specifico altre sostanze per il trattamento orale locale e commercializzato in italia dall'azienda aziende chimiche riunite angelini francesco a craft spa sede legale tantum verde collutorio può essere prescritto con ricetta otc medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco confezioni tantum verde 0 e 15 per cento collutorio flacone 120 ml tantum verde 0 e 15 per cento collutorio flacone 240 ml informazioni commerciali sulla prescrizione titolare aziende chimiche riunite angelini francesco a craft spa sede legale ricetta otc medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco classe c principio attivo benzidamina cloridrato gruppo terapeutico analgesici fans forma farmaceutica collutorio indicazioni trattamento sintomatico di stati irritativo infiammatori anche associati a dolore del cavolo faringeo ad esempio gengiviti stomatiti faringiti anche in conseguenza di terapia dentaria conservativa o estrattiva posologia versare nel bicchierino dosatore 15 ml di tantum verde collutorio da utilizzare 23 volte al giorno in forma pura o diluita in questo caso aggiungere nel bicchierino dosatore 15 ml d'acqua non superare le dosi consigliate controindicazioni ipersensibilità alla benzidamina ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6 1 avvertenze speciali e precauzione di impiego l'uso del prodotto specie se prolungato può dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire idonea terapia in un numero vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione non sono stati effettuati studi di interazione vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it assumere tantum verde collutorio durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere tantum verde collutorio durante la gravidanza e l'allattamento non vi sono dati relativi all'uso della benzidamina in gravidanza o durante l'allattamento non è stata studiata l'escrezione del prodotto nel latte materno gli studi condotti su animali con riferimento vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari tantum verde non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari effetti indesiderati la tabella sottostante riporta gli effetti indesiderati classificati per sistemi e organi secondo membra gli effetti indesiderati sono elencati utilizzando le seguenti scale di frequenza molto comune e un decimo comune e un centesimo vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it sovradosaggio l'intossicazione è attesa solo in caso di ingestione accidentale di elevate quantità di benzidamina 300 mg i sintomi associati al sovradosaggio da ingestione di benzidamina sono principalmente di natura gastrointestinale ed a carico del sistema nervoso centrale i sintomi gastrointestinali più frequenti sono nausea vomito dolore addominale e irritazione esofagea i sintomi a carico del sistema nervoso centrale includono capogiro allucinazioni agitazione ansia irritabilità molto raramente sono stati riportati sintomi di sovradosaggio in bambini quali eccitazione convulsioni sudorazione atassia tremore vomito dopo somministrazione orale di benzidamina ad un dosaggio di circa 100 volte superiore a quello delle pastiglie da 3 mg in caso di sovradosaggio acuto è possibile effettuare solo un trattamento sintomatico i pazienti devono essere tenuti sotto stretta osservazione e devono ricevere un trattamento di supporto deve essere mantenuta un'adeguata idratazione proprietà farmacodinamiche categoria farmaco terapeutica stomatologici altre sostanze per il trattamento orale locale codice atc a 01 ad 02 studi clinici dimostrano che la benzidamina è efficace nel trattare i processi irritativi localizzati nella bocca e proprietà farmacocinetiche assorbimento l'assorbimento attraverso la mucosa orfaringea è dimostrato da quantità dosabili di benzidamina nel siero umano peraltro insufficienti a produrre effetti sistemici distribuzione quando applicata localmente la benzidamina raggiunge concentrazioni dati preclinici di sicurezza la tossicità embrionale per i post natale sono state esaminate in studi di tossicità riproduttiva il ratto e coniglio a concentrazioni plasmatiche molto più alte fino a 40 volte di quelle elenco degli eccipienti glicerolo etanolo 96 per cento saccarina metile para idrossi benzoato sodio bicarbonato aroma menta polisorbato 20 giallo chinolina e 104 blue patent di e 131 acqua depurata farmaci equivalenti i farmaci equivalenti di tantum verde collutorio a base di benzidamina cloridrato sono tanto un verde collutorio fonte foglietto illustrativo aifa agenzia italiana del farmaco le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'aifa agenzia italiana del farmaco grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farma max ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato